Adesso sono su quella fessura che grazie alle immagini dell'operatore Max Martini state vedendo in questo momento. Ci sono venuti a chiamare anche il vice sindaco per dirci che quella fessura, quella spaccatura in realtà prima non c'era. Secondo loro sarebbe stata provocata proprio dalla scorsa delle testa e quaranta. Noi stiamo qui con uno dei capi della forestale, il comandante della forestale, lei mi diceva che è così.